Buongiorno carissimi trader e bentornati in un nuovo video. Oggi vi porto veramente ottime notizie. Bing X ha lanciato un nuovo bonus estremamente interessante, più precisamente un airdrop che ti dà la possibilità di ricevere fino a 30 dollari in bitcoin. E la cosa interessante è che questo airdrop ha dei requisiti che a parer mio sono veramente accessibili a tutti. E tra poco te li mostrerò. Infatti questo video è veramente molto veloce proprio per aggiornarti nella maniera più rapida possibile su questa opportunità che dura soltanto 6 giorni a partire da oggi tra l'altro. E la cosa ancora più importante è che è possibile accedere a questa iniziativa, a questa opportunità soltanto tramite il link che tra l'altro come sempre troverai nel primo link in descrizione o nel primo link nei commenti. Oltretutto oggi sono un po' influenzato, non so voi come state, fatemelo sapere nei commenti e lasciate il solito mi piace di supporto. Le condizioni si vedono, sono influenzato. Andiamo a vedere questo bonus e come sbloccare questi dollari, più precisamente questi bitcoin. Questa è la pagina che vi ritroverete davanti una volta che avrete cliccato il link. La cosa che vi faccio subito leggere è questo evento riservato agli utenti invitati. Grazie al mio link potrete accedere a questa opportunità. Vediamo che c'è la possibilità di incassare 30 dollari in bitcoin. La data inizio evento tra l'altro proprio oggi vi sto facendo il video proprio con una fretta assurda in modo tale da lasciarvi aperta la possibilità anche perché è a numero limitato. Adesso lo vediamo e questo è tra quanto termina. Vediamo che ci sono soltanto 7000 posti di cui 62 nel momento in cui sto registrando ma che a breve aumenteranno molto in fretta sono occupati. Quindi come si sblocca questo airdrop? Intanto clicchiamo qua, iscriviti per le ricompense. Chiaramente io ho già fatto una richiesta e quindi mi parte il bug però voi cliccate qui. Il primo metodo per avere i primi 5 dollari in bitcoin è fare un deposito di almeno 100 USDT. Cliccando qua ci andrà poi sulla pagina apposita per fare il deposito. L'altro metodo per sbloccare i successivi 5 dollari e poi c'è uno step da 20 dollari è quello di fare volume di trading, cioè iniziare a fare trading. È possibile farlo in diversi modi e l'importante è appunto fare il volume. La cosa interessante è che questo volume, il primo step è di 2000 dollari, l'altro di 20.000 ma è possibile utilizzare la leva. Chiaramente attenzione perché maggiore sarà la leva, maggiore saranno i rischi di perdere il capitale, ok, maggiore saranno le probabilità, però per gli utenti più esperti fare 20.000 dollari di volume sono 5-6 operazioni volendo. Quindi veramente sono dei requisiti estremamente estremamente rapportati ai tutti e uniti a tutti i bonus che sono per chi si iscrive in questo momento. Ecco, questo vale anche per chi è già iscritto. Però casomai se volete sbloccare ancora più bonus, il mio consiglio è quello di creare un nuovo account se non l'avete già fatto magari e soprattutto se siete passati per la prima volta da me e appunto iniziare a fare trading con le nuove ricompense in atto più questo airdrop. Qua ci sono tutte le regole, andatevela a leggere, mi raccomando. Tra l'altro ne approfitto per far vedere nuovamente quelle che sono le ricompense per i nuovi utenti che danno la possibilità di avere più di 5.000 USDT. Chiaramente ci sono anche qua degli step da sbloccare. Io nel frattempo sto sbloccando anch'io i miei. Come vediamo questo qua è un nuovo account che ho fatto per portarvi vari contenuti. Ho già riscattato due bonus, quindi direi affatto non male. Infatti ho già fatto più di 10.000 dollari di volume perché sto facendo copy trading. E tra l'altro vi aggiorno anche oggi su quello che è il copy trading dato che almeno c'è un po' di sostanza in questo video. L'abbiamo visto ieri. La cosa veramente buona è che il nostro trader almeno per oggi ha fatto un altro 1.5% in una sola giornata tra ieri e oggi. Sono risultati molto molto interessanti, soprattutto ottimi. Vediamo che qua tra l'altro stranamente la posizione questa la sta un po' tirando. Per il resto comunque direi alla grande, ok? Direi alla grande, questa è la cronologia delle operazioni. Ancora praticamente la maggior parte in positivo. Quindi direi veramente veramente buono. Anche per quanto riguarda il copy trading. Come vi avevo detto questo video era veramente molto rapido. Volevo semplicemente avvisarvi di questo super bonus che metterò anche tra l'altro all'interno della community di YouTube. e anche all'interno del mio Telegram. Per il resto ci vediamo al prossimo video. Grazie mille alla visione. Mi raccomando sfruttate tutti i bonus e state attenti. Fate trading con la testa e non così distinto. Ragionate sempre. Ci vediamo al prossimo video. Grazie mille alla visione. Primo link in descrizione. Grazie mille alla visione! Grazie mille alla visione!